E torniamo ad occuparci dell'impatto della crisi sulla nostra economia e oggi lo facciamo in compagnia di Mauro Pantano, presidente della Confederazione Imprese e Professioni. Buongiorno, grazie di essere qui con noi e di dedicarci questo spazio, ma soprattutto di poter parlare attraverso lei di questa crisi che sta investendo naturalmente nella nostra economia. Il 2022 era stato visto come anno della ripresa nel post-pandemia, però il caro Energia, lo scenario dell'evento bellico, sicuramente segnano un'inversione di rotta e le stime per il PIL tra l'altro sono state anche tagliate. Allora ci aiuta a comprendere qual è lo scenario presente. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei. La domanda diciamo è un po' articolata, però cercherò di renderla un po' più semplice. Passo passo. Veniamo da due anni di pandemia. Ovviamente io rappresento in questa sede le aziende e le libere professioni, per cui porto un po' il disagio economico, ma non solo economico, ma anche finanziario. Poi magari spieghiamo cosa significa. Il disagio economico è perché ovviamente durante questa pandemia mondiale noi abbiamo avuto dei crolli e delle vendite. Quindi ovviamente quegli incassi che si facevano prima della pandemia non si sono più realizzati. E quindi il governo per quello che ha potuto ha messo in campo dei contributi per i fitti, dei ristori per quanto riguarda le differenze delle vendite tra il 2019 e il 2020. Tengo a precisare però che questi contributi e questi ristori non sono stati assolutamente sufficienti per livellare le perdite che si sono avuti. Perché l'aspetto economico è proprio questo, cioè la differenza che passa tra le spese fisse, perché ricordiamo a noi che parliamo, ma ricordiamo pure al pubblico, che queste spese non sono cambiate. Cioè le spese di un'azienda, quindi il fitto, il costo del personale, il costo per le merci, non sono variate. Quelle che sono variate sono variati i ricavi, cioè sono variate le entrate, quindi i corrispettivi, le fatture che noi quando andiamo a comprare la spesa, quando andiamo a comprare un profumo, quando andiamo a comprare di scarpe, dobbiamo pagare. Questo è calato ed è calato vertiginosamente. E qui si collega la crisi finanziaria, quindi veniamo poi al discorso della guerra. Quindi nel momento in cui i costi sono maggiori delle entrate, si chiama perdita. Quindi oggi abbiamo una platea immensa di aziende che chiuderanno di nuovo il 2021, perché stiamo chiudendo il bilancio del 2021, con delle perdite. Cosa accade? Che non avendo i corrispettivi e quindi non avendo i soldi, si apre la crisi finanziaria. Quindi significa che io devo ottemperare a pagare i debiti che nel frattempo ho avuto. Quali sono i debiti? Sono gli stipendi, sono i fornitori, sono i fitti per i proprietari, sono i debiti con le banche. Quindi questo scenario, con la fine della pandemia e con l'inizio della guerra, ha portato anche a una speculazione. Lo stiamo vivendo in questi giorni sulla benzina, che noi stiamo in qualche modo accusando la guerra. Ma in realtà la benzina che oggi noi stiamo comprando è stata comprata due mesi fa. Perché il prezzo del petrolio, che poi diventa benzina, impiega due anni e due mesi per andare sul mercato. Quindi la speculazione è comunque nata. Quindi è nata una speculazione su quest'onda. E quindi questo aumento dei prezzi. Crisi finanziaria. Nel momento in cui io, imprenditore, devo pagare i debiti e non ho i soldi, perché il fatturato... Dove vado? Vado alla banca. Ma c'è la chiusura poi degli accessi ai crediti, perché non abbiamo... Esatto, perché non abbiamo più i bilanci... Esatto, positivi dei pagamenti effettuati. Anche il più semplice impiegato di banca, che ti vuole aiutare, ti chiede il bilancio. E ti chiede il bilancio del 2020, che è negativo. E ti chiede una bozza del 2021, che è negativissimo. Magari anche il rating è negativo per l'appunto, perché non sono stati pagati. E quindi non ti finanzia. Quindi noi abbiamo, come associazione, tantissime aziende che vengono da noi a dire cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare? Il rischio, e per l'appunto lo menzionava lei, è che molte aziende dichiarano il default, cioè decidono totalmente di chiudere. Esattamente. Questo però poi va ad investire, come diceva lei, l'aspetto finanziario, ma una crisi anche di Stato, perché poi lo Stato si troverà con molte aziende che, poiché chiuderanno, non potranno pagare più sulle varie proprie debiti. Tenga presente che nell'ultima legge di bilancio, dove erano stati stanziati dei fondi per il mondo economico, questi fondi sono stati tagliati, perché sono stati poi veicolati verso le armi che l'Italia ha deciso di mandare. Se aumenta la percentuale del PIL per il riarmo, intanto io le chiedo, facendo passazioni indietro, c'è questo aspetto a tenere in considerazione, però anche il caro energia che in realtà abbiamo respirato prima dell'inizio di questo evento bellico, e anche questo aspetto ha messo in difficoltà molte aziende. Il governo è intervenuto a tal proposito, lei è soddisfatto sulle misure parate dal governo? Si poteva fare di più? Sicuramente si poteva fare di più. Noi non siamo soddisfatti, le faccio un esempio pratico, così ci capiamo anche per il pubblico che ci ascolta. Tra i nostri associati ci sono le pasticcerie. Le pasticcerie, per esempio, hanno le celle frigorifere per conservare gli alimenti, per conservare le torte, per conservare i dolci, per conservare le materie prime. Quindi la pasticceria, uno dei costi di materia prima principale è la corrente, l'energia elettrica. Tenga presente che una pasticceria che pagava a bimestre 2.000-2.500 euro, oggi arriva a 6.000-7.000 euro di bollette. Quasi più del 50%. Quindi l'incentivo che il governo ha dato non l'ha dato direttamente all'utente finale, quindi in questo caso alla pasticceria, ma l'ha dato all'azienda che produce l'energia. Quindi lo sconto non viene dato direttamente all'utente finale, quindi all'impiccolo imprenditore, ma viene dato all'azienda che produce l'energia. Quindi anche qui il rischio di speculazione. Anche qui, esattamente, il rischio di speculazione. Senza intervenire in quelli che sono ovviamente i costi annessi alla produzione dell'energia. Certo. Facciamo l'esempio della benzina che è più semplice. Noi nei 2,20 euro che oggi paghiamo, perché l'ultima stima è del 5 marzo, in questo importo c'è il 22% di IVA, ma soprattutto c'è l'accise, che in Europa è al quinto posto, l'Italia è collocata al quinto posto. Cioè sono costi accessori. Lei dice che al di là del fatto che magari possiamo avere uno sconto di 25 centesimi per litro sul prezzo della benzina, comunque ci sono le accise. In questo caso il governo dovrebbe venire a meno sui costi accessori. costi accessori che ovviamente in questo momento, ripeto, che è un momento drammatico perché veniamo già da una crisi della pandemia. Potrebbero sollevare molte aziende. Senta, a questo punto io le chiedo, cosa proponete quindi per intervenire in tempi più stretti in maniera molto celere? Perché in realtà la verità è questa, bisogna intervenire sì, ma in maniera tempestiva, in maniera celere, perché adesso c'è queste enormi difficoltà. Noi come Confederazione Imprese Italia, ovviamente di Napoli, perché io sono della provincia di Napoli, però anche a livello nazionale abbiamo proposto una sorta di comitato tecnico, invece di chiamarlo scientifico, ma economico. Cioè nel senso che così come il governo ha messo in piedi un pool di persone che potesse in qualche modo fronteggiare la pandemia da un punto di vista sanitario, io credo che forse in questo momento bisognerebbe dotare un comitato tecnico e economico proprio per essere veloci e quindi non aspettare i tempi del governo, diciamo del Parlamento, anche se ormai il Parlamento è quasi inesistente, insomma ce lo possiamo dire, o si va avanti a DPCM o decreti ministeriali. Per cui noi pensavamo di suggerire questo organo, quindi che avesse una velocità molto più incisiva, ma nello stesso tempo si potrebbe già operare con i direttori dell'Impese e con i direttori dell'Agenzia delle Entrate per far uscire subito delle circolari per abbassare quelli che per esempio sono i costi del personale, quindi i contributi previdenziali e i costi per esempio delle aliquote IRPEF. Esatto, perché abbiamo dal lato il costo di lavoro che ha un impatto considerevole sulle piccole e medie aziende, ma allo stesso tempo i dipendenti vivono in una situazione in cui i salari non crescono. Dall'altro lato le aziende soffrono molto questa crisi perché c'è di ritorno anche delle cartelle esattoriali e purtroppo la chiusura da parte delle banche per l'accesso ai crediti, come possiamo far ripartire le aziende? Questo è un dramma, questo è un dramma nel dramma, proprio perché alla fine se le aziende non riescono ad avere la liquidità, quindi non riescono a riprendersi un po' da un punto di vista... Far girare l'economia liquida. Ovviamente i primi a pagarne le conseguenze, oltre agli imprenditori stessi che devono chiudere, ma sono i dipendenti. Esatto, è un circuito... Sì, è un cane che si morde la coda. E in questo si inseriscono anche le libre professioni, perché anche le libre professioni in questo caso lamentano una crisi economica, perché poi sono di servizio sì alle piccole e medie imprese, ma le piccole e medie imprese in realtà non avendo possibilità, non avendo liquidità, non avendo possibilità di pagare neanche i dipendenti, non hanno la possibilità neanche di saldare magari le libre professioni. Quindi è un momento buio, guardi, è un momento buio per l'economia, perché non c'è una risposta certa. Cioè noi che siamo abituati, almeno da un punto di vista professionale, a parlare della certezza del diritto, cioè quando una volta esisteva una norma che dava la certezza, oggi viviamo invece in uno Stato dove questa certezza non esiste più. Il PNRR, i fondi che sopraggiungeranno, potrebbero restituire quella forma di certezza? Allora, in teoria sì. Il problema è chi li gestisce e come verranno frazionati per farli arrivare ai piccoli, perché quello è il problema. Cioè i piccoli non hanno la possibilità di poter partecipare alla realizzazione di questi piani. È come quando si va dal sarto, io dico sempre. No, noi a volte dobbiamo subire una taglia che magari non è stata costruita per la piccola impresa, ma magari è stata costruita per altre realtà. Io che sono una 48-50, non potrò mai mettere una 56 di vestito. In realtà bisognerebbe instaurare dei tavoli istituzionali e dialogare appunto con le parti competenti. Con i piccoli, con i piccoli imprenditori e con i libri, quelli che tutte le mattine aprono la sala sinesca e gli studi del... Che vanno ad intessere in realtà l'economia del paese. Esattamente, sono proprio il pillo, cioè sono proprio la spina torsale del paese. Però paradossalmente non hanno voce, se non attraverso, ecco in questo caso, le associazioni di categoria, tipo la nostra, che cercano in qualche modo di... Trovare uno spiraglio. Di trovare uno spiraglio, ma soprattutto anche di collaborare per trovare una soluzione, perché ci rendiamo anche conto che dall'altro lato, non sempre, non conoscendo questo mondo, non si è nelle condizioni di poter trovare la soluzione. Noi speriamo che questa soluzione possa davvero trovarsi, perché lo scenario, come diceva, è drammatico, però cerchiamo di vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, con l'auspicio che davvero possa esserci da parte delle istituzioni, del governo, quella sensibilità a comprendere le difficoltà del momento da parte delle piccole e medie imprese. Intanto grazie per avercene parlato. Grazie a Mauro Pantano, presidente della Confederazione Imprese e Professioni. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie. Publicitale, state con Mattina Live.